Salve a tutti Blazers e benvenuti in questa seconda parte del secondo episodio della seconda stagione di Minecraft Story Mode Abbiamo combattuto contro l'enorme admin che ha distrutto mezza città Si fa per dire mezza, non ha fatto tutti questi danni Ma tra i danni che aveva fatto aveva distrutto il memoriale del povero Ruben E infatti noi ora siamo qui per ricostruirlo insieme Ci eravamo lasciati proprio a questo punto Ricominciamo da qui prima di continuare con l'avventura e scoprire che cosa sia il misterioso guanto di Jesse e che cosa ci aspetta Quindi ragazzi prendiamo un po' di diorite e direi che qua fa più o meno da sé Dovremmo tipo ripristinare il pavimento con la diorite immagino Non so com'era il memoriale di Ruben prima Quindi cercherò di sistemarlo un po' ad occhio E non so neanche se la puoi personalizzare più di tot la costruzione diciamo Tipo posso mettere qui un blocco? Si Poi li mettiamo qui e abbiamo fatto diciamo il pavimento E qui dietro? Si posso anche costruire qui dietro Quindi completiamo il pavimento in questo modo Davvero non so se è tipo una sorta di costruzione guidata O se semplicemente possiamo farla un po' come ci gira Tra l'altro non riesco a piazzare l'ultimo blocco là dietro Come si fa? Che fastidio! Devo spaccare qui forse? Eh mi sa di sì Allora vai Metti il blocco là in fondo Ok E poi chiudi tutto Perfetto Ce l'abbiamo fatta? C'è un buco? Si c'era un buco E poi ci serve la diorite liscia Per concludere tutto questo pezzo Giusto? Ma quanto ci mettiamo a fare tutta sta roba però raga? Cioè Super pallosa va bene tutto Ruben sei nostro amico Ti voglio bene proprio un sacco di bene Però potrebbe essere una cosa davvero pallosa da fare Quindi chiudiamola così E Con del vetro Chiudiamo con del vetro è buona Potrei mettere anche la prismarine del gigante Però insomma non è che Mi faccia tutto questo piacere Quindi mettiamo qui del vetro E io direi di concludere questa costruzione Per costruire abbiamo la serie survival Non abbiamo la story mode Non è bastato il vetro Ma che triste E vabbè mettiamo a caso la prismarine allora E' uscita una merda Va bene così Sì va bene Grande è perfetto Ruben Sono contentissimo Questo è un monumento adatto a Ruben Con una macchia verde a caso Vabbè fai niente Ovviamente lei dice Io non ho mai incontrato Robin Si chiama Ruben Comunque Petra ti sta cercando Grazie Nel Andiamo da Petra Ormai c'è prismarine ovunque in città Avete visto L'hanno usata per ricostruire Si stanno Ah sta parlando con l'amico Che abbiamo ritrovato Nella Nel monumento Avete visto Petra in giro Mi starebbe cercando Sì sta aiutando Nerm a fare alcune cose E' un gran lavoro nel combattimento con l'admin E' stato sorprendente Eh non è stata la mia prima battaglia etica Ne abbiamo avute altre La Witherstorm La Witherstorm Ti darò il libro E' un po' triste che il leggendario Jack Del lago Mushi Si è ridotto a fare da guida Quindi questo è il suo vero nome Penso che un'avventura nella caverna è quello che ti servirebbe Lui è un altro avventuriero Diciamo che ormai si è ritirato Sei un bugiardo Tessimo Cerca di nascondere tutto il suo passato Non si sa perché Abbiamo una nuova avventura pianificata Ah eccola Ah Petra sta parlando con Nerm Di questa avventura Vuole andarsene con loro Sì Vuole partire per un'avventura con loro Ma stiamo ricostruendo Perché te ne vai Petra La città ha bisogno di te Ma dice che Non ha bisogno Cioè non abbiamo bisogno di lei per questo Ti posso spiegare Dice Nevica? Ma che succede? Non è un bioma da neve questo Perché sta nevicando? Infatti è impossibile Non è un bioma dove cade la neve Che succede? Eh questa è opera degli admin Mi sa Eh esatto Il sole è unico Ma che cazzo? Mi sono divertito tanto Nell'ultima battaglia Tu sei l'admin Quell'enorme colosso Era solo un costrutto Eh ecco Molto divertente vero? Questa è la tua idea di divertente È distrutto tutto Non è stato divertente Perché c'è un pupazzo di neve davanti a me? Che succede? Voi quattro siete andati nel mio tempio E siete tornati vivi Siete La mia creazione è perfetta Che sta dicendo? Ci vuole lanciare una nuova sfida E dice che la ameremo Che cavole? Ha ghiacciato tutto? Una classe diamante di distruzione Cosa intende dire? Ha evocato un'ordine di non morti? Lasciaci da soli Cosa vuoi? Ha rimesso notte Ha spento la luce E nevica Che cosa ha contro di noi? È come se li avessimo fatto Chissà quale torto Questa città sarà intrappolata in un'eterna notte nevosa Finché non ricatturerai quell'orologio che ci ha tolto per l'appunto Lo troveremo nel suo incredibile palazzo della disperazione Devo seguire quella traccia È un fattuto pazzo Ma accettiamo la sfida Non possiamo fare altrimenti Prenderemo quell'orologio E tu sarai il prossimo Perché ci stai facendo questo? Cosa vuoi da noi? Perché? Perché è divertente Io lo attacco Li vuole tirare un cazzotto Attaccale Gli ho tagliato la testa? Mi sa che non servirà un gran che è vero E infatti Hai evocato degli strais Se ne hanno l'incubo della città Finché non riotterrai che l'orologio Ma è un pazzo Dobbiamo proteggere le persone Cioè hanno appena finito di ricostruire da un gigante E sono arrivati gli strais Andiamo bene Andiamo benissimo Vai avvicinati Aia Mi ha fatto parecchio male Aia Mi prenderai No Ok Eccomi Vai Attaccalo Attaccalo Uno e giù Uno e giù Avvicinati Stacca Uno Due Tre Perfetto Ce l'abbiamo fatta in teoria Ci sono anche gli zombie Cosa volete voi stupidi zombie Eh Vai Uno Due Tre E a te ne manca uno No Due Perfetto è andato giù Aiutiamo Pietra Un altro strais Altri tre strais Avviciniamoci Schiva Grande Vai Vai Schiva Merda Sono in tre Come faccio a schivarli tutti Vai Ok Uno è andato giù Dai Andiamo Tanchiamo Andiamo di cattiveria Uno Due Tre Schiva Uno Due Tre Ok ce l'abbiamo fatta In teoria Ho una brutta sensazione Dice L'orologio è scompasso da sotto il mio naso Dice Lucas E la situazione diventerà peggiore finchè non lo riotterremo E lui vuole venire con noi Lui vuole aiutarci sono orgogliosi di te Radar Quindi viene con noi davvero Radar Radar Tu non puoi venire Dice a Norm Ti prometto che tornerò indietro Sì Proteggi la città per noi Norm Ecco così è contento Perfetto Cosa volete voi Ok Difederanno anche loro Beacon Town Perfetto Andiamo Seguiremo la traccia Arriveremo a questo Palazzo di ghiaccio Ovunque esso sia Una traccia di Ghiaccio compresso Luminiscente Figo però Quindi ricapitolando Gli admin Abbiamo indovinato tutto Era solamente un costrutto E l'admin Ora si è presentato sotto forma di un pazzo di neve Per una nuova challenge Siamo tutti vicini ragazzi Siamo sicuri che l'admin manterrà la sua parola su questo orologio Io penso solamente sia pazzo Però non abbiamo scelta Dobbiamo farlo Lui è con noi Dice anche lui che è un pazzo A modo suo E Pietro Mi chiede se possiamo parlare Da soli Ok loro andranno un po' avanti Forse è stato un errore portarlo con noi lui Sapete mi sembra un po' fuori luogo Sta dicendo che con Jack non è come sembra Volete fare un'avventura ma non mi avete invitato Pensavo fossi occupato con la ricostruzione e tutto E sono davvero dispiaciuta per quello che è successo Era solo contenta di partire per una nuova avventura Per cui ha detto sì e non ce l'ha detto E pensavo che non abbiamo più bisogno di lei Quindi te ne andrai e basta? No diciamo sì che abbiamo bisogno di te E' tutto così diverso dalla prima volta che ci siamo incontrati Tutto è cambiato Ha ragione Axel e Olivia tra l'altro non sono con noi Lucas c'è Sì è tutto diverso Ognuno ha trovato la sua strada ma lei dice Non ho trovato la mia Tu sei un'avventuriera ecco cosa sei È quello che ha pensato anche lei Comunque tutta questa scena mi sembra una scena tipo di gelosia tra due fidanzati Che dice no non ero come sembra con Jack Oh Salve Com'è che ti chiamavi tu non mi ricordo Luna Il lama è scappato È una sciarpa Quella sull'ama Voi conoscete un lama? Sì Quanto pare sì Sì Carina no? L'abbiamo riportata dalla sua proprietaria ma è tipo scappata Oddio ecco la proprietaria Andate via dal mio lama Jesse mio rivale Ciao Stella Tutto ciò che hai da dirmi è ciao E che ti devo dire Stella? Puoi andare via dalle palle Abbiamo un palazzo da affrontare Lucas questa è Stella La leader della città dei campioni Lui è Jack Voss Radar Piacere Abbiamo fatto le presentazioni Jack il leggendario campione? Cosa stai facendo qui Stella? La mia bellissima città è coperta da un accolto di neve Sono venuta a investigare e sorpresa è colpa tua Non dare la colpa a me Sono stati gli admin Non so chi sia questo Adam Sta qui non capisce niente raga Edmin è un grandissimo Cattivone Super potente Diciamo che ti credo Devo solo trovare un modo per Riparare tutto Ci vedremo Non ho bisogno di nessuno di voi Dice Ma chi ti sei in cula? Ma vai via La luna è Incastrata Cioè il tempo è stato fermato Quindi Stella Come farei a riparare tutto? Vuole venire con noi Tipo? Che strano gruppo che si è composto Questa avventura deve davvero includere Stella? Cioè guardate che razza di gruppo si è creato raga Cioè un assortimento di gente a caso Non è come una volta Però è divertente Quindi seguiamo questa traccia E arriveremo al dannato palazzo Cosa era questo urlo molto Mascolino? I ragazzi zitti Dobbiamo tenere aperti gli occhi Raga Siamo passati da Attack on Titan a Frozen Sono senza parole Dice Jack Tutto bene Jack? Non avrai un altro Episodio di follia Terrora le mie paure La mia rabbia Tutto quanto Per me stesso Beh, ottimo Ed ecco l'orologio Ah è proprio lì Come facciamo ad arrivare lassù? Dobbiamo entrare forse Stai dicendo che questo admin è così potente Ad aver costruito tutto questo istantaneamente? Sì È proprio così E lei probabilmente è gelosa di questo potere Il potere rende le persone pazze Gli admin sono dei coglioni Adatto praticamente Jack dice fidati di me Ha ragione lui Stella non cambierai mai Ah, l'ha riconosciuto e dice che Lui lavorava con lei una volta Sì, una volta vivevo nella città dei campioni Cosa? Penso che non sappia neanche usare una spada Però è coraggioso Quindi sei zitta Stella E non rompere le scatole Lo sta prendendo in giro Ma chi ti ha invitato dice lui Ha ragione però Perché ci aveva stare un piccoglione nel gruppo? Manco il lama ti vuole Stai lì stai Non sono la persona che pensa Che lei pensa che io sia Sono cambiato Grazie Questo è lo spirito Vai, sei coraggioso Radar Ci fidiamo di te Non ti fai ammazzare, ok? Date uno sguardo a quello Non ho mai visto Una cosa del genere Da quando ho visto Boh La costruzione di Egesh Non sappiamo cosa sia Una delle sue vecchie avventure Una leva Ok, ragazzi Questa leva probabilmente Aprirà dei cancelli Qualcosa così O darà l'inizio a qualcosa di importante E noi prendiamo questa occasione Per fermarci Perché il video è già durato un sacco Spero che questa avventura vi stia piacendo È iniziata molto bene Questo episodio è stato transitorio Però mi interessa molto questo mondo di ghiaccio Sono davvero curioso di vedere come si evolverà la situazione Per il momento direi che è tutto Quindi noi ci salutiamo Un saluto da Eren Blaze Ciao a tutti Grazie a tutti